Fiaccole fumogeni e persino giochi d'artificio per chiedere la liberazione di Michele, l'attivista del movimento NoMuos palermitano, fermato durante gli scontri di sabato scorso a Palermo tra la polizia e gli stessi attivisti fra Via Cavour, Via Spinuzza e Piazza Verdi nel centro della città. I disordini si erano verificati in occasione del corteo organizzato dall'associazione di destra della rete NoMuos boicottato dal sit-in del movimento NoMuos di estrazione di sinistra. La contrapposizione tra i due fronti di protesta contro l'impianto militare di comunicazione satellitare in costruzione nella base USA Niscemi era già emessa con chiarezza nei giorni precedenti. Circa 200 giovani dei centri sociali guidati da quelli del centro Anomalia oggi si sono dati appuntamento davanti al carcere palermitano del Lucciardone per riscenare la loro manifestazione. Guardati a distanza dalla polizia che ha evitato il contatto ma ha tenuto sempre sotto controllo il corteo, i giovani manifestanti hanno fatto due volte il giro intorno al carcere urlando cori antifascisti e contro le forze dell'ordine accusate di essersi schierate a difesa proprio dei fascisti. Michele sabato 30 novembre è stato arrestato durante le cariche che la polizia ha fatto per difendere il corteo dei fascisti nascosto dietro la sigla Rete NoMuos. Il movimento NoMuos e gli antifascisti palermitani sono scesi in piazza per smascherare quella pagliacciata e Michele che da sempre si batte in questa città per mantenerla libera dal fascismo e dai fascisti è stato prima caricato a freddo dalla polizia e poi mentre si opponeva alla brutalità appunto della polizia in quella piazza è stato fermato da quattro agenti e la Digos che danno dapprima malmenato in strada e poi appunto arrestato e tradotto qui al carcere di Luciardone dove attende ancora con valida dell'arresto che insomma dovrebbe essere domani con l'udienza alle nove di mattina. A Palermo il fascismo e i fascisti non sono ben accetti, non possono sfilare impunemente per le strade della nostra città. La manifestazione è durata circa un'ora, si è poi sciolta ma i giovani di anomalia si sono dati nuovamente appuntamento per domattina alle nove per proseguire la loro manifestazione in attesa della liberazione di Michele. Continuano intanto le indagini delle forze dell'ordine sui scontri di sabato pomeriggio. Sono una quindicina le persone fotografate o video riprese dalla Digos durante la manifestazione e la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.